ciao a tutti benvenuti stasera siamo in compagnia di alice berti che ci parlerà del suo fumetto neon brothers ciao alice benvenuta ciao come va bene dai bene un po agitata come sempre è un po agitata alice pensa di stare su un canale importante quindi si è agitata inutilmente in realtà no il nostro è un piccolo canale di quartiere vai tranquilla non devi assolutamente agitarti non ce n'è nessun motivo davvero stai tranquillissima e senti partiamo da quello che faccio fare sempre ai miei ospiti quindi una breve presentazione parlasci un attimo di te insomma io mi chiamo alice ho 23 anni compi 24 settembre e sono una fumettista e questo è il mio primo libro non brothers pubblicato da bavo non c'è molto da raccontare ho fatto prevalentemente autoproduzione finora quindi una carriera abbastanza breve cosa hai fatto come autoproduzione hai fatto un altro libro giusto sì che si chiama arabelle pica però è fuori produzione sono state stampate 200 copie poi basta poi faccio autoproduzioni tipo racconto storie mie che vendo magari tipo sul mio etsy che è il mio sito online e poi ho lavorato con un nome che è una rivista autoprodotta di no press sempre un etichetta indipendente e ho fatto qualche storiella breve con loro per quanto riguarda arabelle pica c'è la possibilità che venga ristampato magari prossimamente non credo c'è o diciamo che non ero molto soddisfatta del libro quindi ho voluto io che non venisse ristampato magari se un giorno potrò rimetterci mano fare una nuova edizione fatta in maniera diversa magari sì però per il momento non è prevista intanto c'è vincenzo pennino che dice arabelle letto e riletto mille volte addirittura saluto tutti quelli che sono in live e se avete domande ovviamente fatele che poi le leggeremo piano piano parlaci allora un attimo della genesi proprio di neon brothers quindi come come ti è venuto in mente di fare quest'opera beh neon brothers è praticamente il motivo per cui faccio fumetti nel senso io ho fatto un sacco di lavori che non mi piacevano e questo mi ha dato l'idea per scrivere neon brothers che è una fatica a trovare il proprio il proprio posto nel mondo per via di una società che sostanzialmente gli impedisce di fare dei lavori normali tra virgolette perché un po è un po la situazione del ragazzo ventenne che esce da da scuola dall'università e si ritrova a fare soltanto stage o stage ancora non ho capito come si dice siamo in due cose così è la classica cosa di i giovani d'oggi non hanno voglia di lavorare però se mi proponi cioè di lavorare 12 ore al giorno sette giorni a settimana per 300 euro al mese dici un attimo forse la voglia di lavorare non è che mi manca però e quindi nasce un po da questo da questo concetto da quest'idea anche soprattutto più per esperienze non tanto per esperienze mie perché appunto ho fatto qualche lavoretto che comunque è stato difficile brutto comunque cose che non mi piacevano però mi è andata molto meglio di tanti miei amici che magari anche per necessità familiari o problemi veramente hanno bisogno di un lavoro e difficilmente lo trovano per questo motivo che è un po la società che vorrei dire italiana ma in realtà è un po così anche nel resto del mondo perché insomma amici un po dappertutto non è che ogni paese ha i suoi problemi sì 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 nasceva un po da quest'idea neon brothers e l'idea di ambientarlo a londra viene da una tua esperienza personale o come mai hai deciso di ambientarlo lì londra è una città a cui tengo tantissimo in cui vado non dico ogni anno però quasi cioè sono stata tantissime volte e ho tantissimi amici lì anche i miei ex coinquilini che vivono la quindi ogni volta vado a trovarli eccetera eccetera e quindi è una città a cui sono molto legata ho deciso di ambientarlo lì sia per perché non fosse troppo esplicito nel senso io volevo criticare principalmente appunto questo mondo lavorativo che viviamo noi qui magari in italia però doveva essere esagerato e distante apposta perché la gente potesse un po apprezzare di più la storia secondo me quindi ho deciso di ambientarlo a londra poi in realtà perché proprio quando io ho firmato il contratto per bau abbiamo cominciato a pensare la storia si parlava proprio in quei giorni in quei mesi di brexit per la prima volta e quindi ovviamente il mio pensi il mio primo pensiero è stato oddio adesso come farò ad andare a londra mi servirà il visto saranno casini cose così e quindi ho deciso di inserire questo elemento ecco certo 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 e parlaci anche un pochino a questo punto della storia quindi di cosa parla neon brothers allora la storia di una società ambientata in un futuro non troppo distante in quella brexit ha un po distrutto il paese e la società divisa in due corporazioni e federazione le corporazioni sono delle grandissime aziende che hanno praticamente il monopolio su tutti i lavori che esistono quindi se tu vuoi lavorare avere una vita medio borghese anche un po' basata molto su questo concetto di apparenza di apparire costantemente belli e agli occhi degli altri ti devi far andare bene un lavoro che spesso e volentieri non ti dà quel che ti serve veramente per vivere cioè ti dà il giusto necessario e tu fai quello quindi tante volte devi scendere a compromessi il protagonista nicolai è un ragazzo di 23 anni che sostanzialmente non sa che fare della propria vita e e quindi si ritrova un po a a dover scegliere cioè l'inizio comincia proprio con la sua conquilina che gli dice guarda se tu non ti trovi un lavoro e paghi l'affitto e te ne devi andare da questa casa però nicolai è una testa calda e non riesce a stare alle regole delle corporazioni perché non non gli va giù questo atteggiamento che c'è e quindi decide di di far parte di una delle bande della federazione che è questa diciamo corporazione contrapposta è una specie di grande cosa illegale che si occupa un po dei dei media come una specie di mega youtube di mega rete che praticamente lucra sulle sfide tra i reietti della società che sono sfide che da la federazione stessa proprio perché così le bande devono sfidarsi competere per dei soldi e e nel fare questo nicolai incontra una ragazzina giapponese di nome wakaba con cui da vita appunto ai neon brothers e qui inizia la storia poi sì e io nella voglia di rivoluzione di questi ragazzi ho anche rivisto un pochino quello che per me è un cult ovvero fight club di jack palanuk poi non so se è così quindi ho visto visto bene sì non è stata le mie ispirazioni principali però è un film che sicuramente c'è un pezzo di cultura pop molto importante qui si può fare riferimento comunque quindi sei influenzata anche da cinema e letteratura sì sì sicuramente poi credo si veda moltissimo all'interno della storia ci sono un sacco di riferimenti anche a film storie importanti sì 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 assolutamente se ti partiamo un po da lontano comunque dici come è nata la tua passione per il fumetto e l'illustrazione se è nata prima una o l'altra insomma come come è nato allora il fumetto che io con le illustrazioni in realtà mi sento assolutamente mediocre nel senso tipo non lo so perché non sono ci sono più brava a raccontare storie e quindi fare fumetti di sequenze vignette le illustrazioni singole per me sono vado in crisi perciò il fumetto è sicuramente una passione che mi è nata prima di dell'illustrazione perché appunto compensava sia il mio desiderio di di narrare di raccontare storie perché io sempre adoro tantissimo leggere soprattutto in realtà romanzi devo mettere che fumetti in realtà ne leggo ne leggo ben pochi però sì sono cresciuta questa è la libreria dei miei genitori quindi sono cresciuta in mezzo ai fumetti qui dentro c'è la raccolta completa dei rama mezzo di dragon ball poi fumetti delle clamp un sacco di manga quindi credo che sia stato crescere in questo ambiente poi che mi ha appassionato così tanto poi non lo so perché mio fratello per esempio non è come me quindi sì sì quello di solito funziona così anche carattere magari sì 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 assolutamente e ma quindi sei comunque autodidatta o hai fatto qualche scuola di fumetto qualche corso no allora per il fumetto sono completamente autodidatta perché io ho fatto liceo artistico ma ho fatto grafica grafica pubblicitaria poi ho fatto dopo il liceo non ho fatto l'università quindi ho cominciato subito a disegnare fumetti ho fatto qualche corso di cioè in realtà ho fatto qualche corso tipo di character design workshop o comunque sempre inerenti grafica computer grafica 3d quindi insomma per cercare un lavoro vero certo e hai fatto qualche lavoro vero prima di darti al fumetto sì come dicevo prima appunto neon brothers nasce anche da queste esperienze un po perché ovviamente per pagare mio workshop dovevo fare qualche lavoro vero babysitter a cameriera tutto fatto fatto il più divertente che tutti quanti quando lo dico dicono ma come ho lavorato in uno studio dentistico però in un ufficio come grafica grafica in uno studio dentistico ebbene sì anche quello non è sicuramente divertente per chi sta sulla poltrona ma se fai le grafiche ci può stare esatto intanto iniziano ad arrivare qualche domanda anche vincenzo pennino chiedeva un'opera in generale tra libri e fumetti che ti è rimasta nel cuore ok allora ti dico sia un libro che un fumetto allora fumetto beh io dico sempre scott pilgrim di brian leo mulley perché mi piace tantissimo tra cioè prendo piene mani da lui e poi un libro che mi piace moltissimo il grande gatsby di scott fitzgerald che credo che rappresenti bene anche quello che viviamo ora nonostante sia ambientato negli anni venti del millenovecento e non lo so ci ho trovato tante similitudini anche con neon brothers perché c'è questa voglia disperata di raggiungere dei sogni anche quasi impossibili che mi è sempre piaciuta molto di quel romanzo sì 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 effettivamente l'influenza di brian leo mulley penso che sia abbastanza evidente io ho visto molto quell'influenza anche forse quella di jamie owlett poi se sbaglio e anche un certo ti anche un certo tipo di manga effettivamente quindi dici un po a parte brelli o male appunto quale sono le tue influenze principali beh sicuramente a yazawa l'autrice di nana e non lo so cioè loro tre sicuramente più di tutti quindi sei anche tu fra quelli che attendono il finale di di nana immagino che ci sta facendo abbastanza penare diciamo esatto e invece il contatto con 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 ba o come è avvenuto mi sono proposta io e poi loro mi hanno ricontattata semplicemente è stato molto semplice in realtà ti sei proposta con con un progetto finito con un idea con un progetto che non era neon brothers un'altra storia che poi abbiamo scartato e rifatta da capo ok pensi che vedrà la luce in futuro mi piacerebbe non lo so ancora però non è quello il tuo prossimo progetto ok e dici allora magari quale può essere darci qualche qualche anticipazione su quale può essere il tuo prossimo progetto insomma quello che si può dire allora non voglio fare spoiler però io lo chiamo progetto in codice calypso è già qui ma dice tanto come cosa sì l'ho dato un nome un po sai tipo i titoli di james bond missione moon rake cioè qualcosa di perché voglio creare un po di hype però non voglio ancora dire nulla lo scoprirete lo scopriremo solo vivendo e per quanto riguarda neon brothers invece sei partita direttamente con l'idea di fare un volume unico magari c'era anche l'intenzione di poterne fare una serie una miniserie che secondo me secondo me si presterebbe comunque anche ovviamente a uno sviluppo a un come dire è un mondo molto ampio sicuramente quello dei neon brothers però io non lo so un po paura delle serie essendo il mio primo lavoro volevo cominciare con una cosa che poi si sarebbe conclusa per tastare un po il terreno diciamo poi proprio perché ho tantissime altre storie in mente che focalizzarmi su una per tanto tempo non dico che era uno spreco di tempo però avevo una forte un forte perché io come dico sempre anche in tutte le interviste e cose così anche l'ho detto anche nel podcast che è uscito da poco di di bau che su story tenso non so se qualcuno ne ha sentito parlare io scrivo tantissimo per diciamo come forma di autoterapia per magari esternare appunto come i neon brothers che dicevo prima sentimenti o pensieri negativi che ho nei confronti magari o della società di un determinato di una determinata cosa oppure miei personali quindi focalizzarmi troppo lungo su una sola storia sarebbe stato un po come limitare le altre storie che ho bisogno e voglia di raccontare c'è qualche storia che ti è venuta anche in mente diciamo in base al periodo che abbiamo vissuto e stiamo vivendo anche allora in realtà no ma perché la mia vita in quarantena è stata quasi uguale a tutto il resto del tempo c'è talte le fiere che quelle non le ho mai vissute appunto da autore perché appunto essendo questo il mio primo libro però mi mancano tantissimo perché io andavo sempre quando c'era magari qualcuno qua in zona a salutare gli amici a salutare bau infatti con bau un bellissimo rapporto anche perché non è stato solo lavorativo per la fine del libro ma comunque li vado sempre a trovare le fiere quindi si chiacchiera tra con gli autori ho fatto amicizia con quasi tutti gli autori di bau con la redazione quindi è sempre piacevole però no la situazione attuale non mi ha ispirato granché ma perché non cioè in realtà mi ha pensato una storia anni fa di un virus letale che magari dimezzava la popolazione ma poi ho letto inferno di dan brown ho letto the stand come si chiama in italiano è l'ombra dello scorpione di steven king allora ho detto vabbè l'hanno già fatto quindi hanno fatti decisamente un bel po di di su quel genere adesso cosa uscirà poi essi questo e se avete domande dalla chat fatele pure intanto un'altra cosa che ho visto emergere fortemente dalla tua opera è una grande passione per la musica e l'ascolti mentre lavori è un tuo metodo lavorativo quella di ascoltarla e quali sono le tue band preferite a parte quelle che emergono dal dall'opera come ad esempio l'amore per david bowie direi certo allora beh io sono cresciuta in realtà in un ambiente proprio ricco di musica perché in casa mia si è sempre suonato cantato mia mamma era in una band diciamo che ha fatto anche abbastanza successo cose così quindi sono sempre stata circa infatti tipo le mie tutte le mie band preferite sono principalmente di musica inglese vengono tutte appunto da da mia mamma che è david bowie sono cresciuta ascoltando i blur pj harvey tutto quel panorama inglese musicale degli anni degli anni degli anni 90 si può dire anche il nome della band di tua madre così per curiosità si chiamavano take care of this bear non credo ci siano cantoni in giro però sono molto belle io ho la cassetta ok però hanno vinto qualche concorso anche abbastanza importante quindi in realtà vorrei un punto vorrei che mettessero non so se adesso mi sta ascoltando o meno però mi piacerebbe che venissero condivise su internet quindi magari lo farò io di nascosto eh sì 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 puoi aprire un canale youtube magari sotto falso nome e caricarle tutte lì esatto e poi oddio mi sono un po' persa se la ascolti mentre mentre lavori e poi se c'è qualche altra band che esatto poi in realtà anche io suono il basso e l'ukulele quindi c'ha la musica e proprio io da piccola volevo farla rockstar quindi poi ho capito che non era il mio però sì per questo è molto molto importante per me la musica e quindi diciamo che visto che non mi sento particolarmente brava a suonare o comunque non la capisco la musica eh sono molto più brava ad ascoltarla ho deciso di inserirla eh in maniera abbastanza forte nel nella nelle mie storie ok io ti dico che a 36 anni ancora spero di fare la rockstar quindi per te c'è tutto il tempo beh non siamo mai troppo vecchi per fare la rockstar no che in realtà tipo anche tutti i capitoli del libro e anche di quello nuovo che sto scrivendo sono tutti i titoli di canzoni su Neon Brothers sono quasi tutte band inglesi i titoli delle canzoni c'è solo una che non riuscivo a trovare il titolo adatto allora purtroppo ho dovuto dargli il titolo di una canzone di una band americana però sono tutte inglesi e invece questo nuovo libro non è uno spoiler però sarà ambientato a Roma e sono tutte canzoni italiane quindi la mia parte italiana emergerà da questo calypso che già il titolo è una canzone eh sì esatto 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 ma se non sbaglio anche il nome di una band ora non vorrei non vorrei sbagliarmi ma mi sembra che ci sia anche una band chiamata calypso dottor Bococco chiedeva cosa pensi del meraviglioso genere Gekiga se conosci il genere Gekiga qual è l'opera che è più la entusiasmata si parla di Yoshiro Tatsumi Yoshiharu Tsuge no devo essere sincero sono ignorantissima ma io in realtà sono appunto molto ignorante sui fumetti ho cominciato a leggerne tanti perché sono entrata in Bao e magari alcuni me li regalavano anche per tipo mi hanno regalato la saga di Last Man fighissima per scrivere New Brothers perché aveva molte scene d'azione e io non so non so disegnare scene d'azione non so se poi si vede quando leggerete il libro però sì è stato molto utile molto utile quello e leggevo tanti manga tipo alle superiori però robe tipo sojo da quattro soldi non conosce nessuno basta beh oddio insomma le opere della Yazawa tolta la Yazawa ecco ecco Michele Mari chiede progetti per il futuro quindi se vuoi anticiparci qualcosa a parte Calypso se c'è adesso sto lavorando soltanto a quello per ora poi ho altre storie in mente però bisognerà vedere come svilupparle perché alcune non so se sono adatte all'editoria di Bao soprattutto perché io mi trovo benissimo lavorare con loro e non penso cambierò mai casa editrice sempre poi che loro mi vogliano perché magari poi dicono ciao vattene quindi però sì ho tante storie in mente infatti una volta ci sono state le merende con Bao di recente durante la quarantena Caterina uno dei miei editori mi fa e quando quando facciamo uscire il nuovo libro e questo e quello gli faccio guarda io ho idee anche per i prossimi cinque libri cioè perciò meglio sicuramente meglio così Riro ci chiede quindi se dovessi scegliere tra Scott Pilgrim e Tank Girl quale sceglieresti? domanda difficile dura non lo so allora Tank Girl mi piace moltissimo e adoro Jamie Hewlett però come narrazione mi sento più vicina a O'Malley mi piace di più perché a me piace un tipo di comicità anche un po' stupida cioè non che Tank Girl non ce l'abbia perché mi piacciono proprio scazzottamenti proprio fumetto classico di quelli quasi americani un po' di stile sicuramente è un po' più più crudo Tank Girl rispetto alle robe di O'Malley Scott Pilgrim è molto più stupido secondo me quindi credo quello sceglierai poi riesce ad essere anche molto riflessivo comunque O'Malley anche nelle altre opere a parte anche in Scott Pilgrim ma soprattutto nelle altre opere pubblicate e senti se dovessi dare un consiglio a chi si avvicina al fumetto diciamo soprattutto in Italia visto che è il mercato a cui stiamo parlando che consiglio da resta? da leggere o da no 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 per diventare fumettista sì sì a chi volesse fare il fumettista cambiate mestiere a chi volesse leggere ovviamente consigliamo di leggere Neon esatto aspetta tac no bisogna armarsi di tantissima pazienza cioè io mi sento abbastanza fortunata che mi è capitato un po' per caso nel senso che ho fatto un fumetto mi sono divertita ho detto boh mi propongo a BAU perché sono tra una delle più grandi case editrici in Italia per il genere che faccio io vediamo come va e mi è data bene e quindi mi piace fare questa cosa per dare vita anche e soprattutto alle idee che ho in testa e come dicevo prima mi piace molto raccontare però bisogna armarsi di tanta pazienza perché ci sono veramente momenti di crisi totale che dici aiuto e senti appunto a proposito come sta andando il libro che è uscito a marzo giusto? sì è uscito proprio il primo giorno di lockdown stellare sarà ricordato però ha una peculiarità diciamo spero di aver tenuto compagnia un po' le persone in questi mesi poi dalla redazione mi hanno detto che dalla redazione dal mio editore Michele Foschini perché c'è solo lui in redazione adesso la redazione è chiusa e a fare i pacchi e a tutto il resto esatto se seguite la pagina di Bau sicuramente conoscete le vicende ma ha detto che si ne ha impacchettati un bel po' per ora da quello che si vede dalla redazione dovrebbe andare sta andando abbastanza bene ma la cosa che mi premi di più sono poi i commenti che ricevo dai lettori che quelli per me sono tutto veramente mi danno un sacco di forza perché mi sento tipo super mediocre in realtà perciò è molto bello sentirsi dire infatti credo che questa sia la cosa che manca di più del mondo della fiera ecco degli incontri ecco quindi parliamo anche un po' delle fiere tu hai detto chiaramente che diciamo da professionista non ne hai ancora mai fatte però come pensi che influisca questa situazione che stiamo vivendo e che credo durerà ancora per qualche mese almeno non lo so cioè sicuramente quando ci saranno di nuovo le fiere saranno secondo me ancora meglio di prima perché io ho una visione abbastanza ottimistica di tutto in generale quindi perché magari la gente avrà voglia di tornare di fare di vedere i propri autori preferiti e degli autori di stare a contatto col pubblico poi quindi sarà una bella botta eh beh sì 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 e c'è un ragazzo in chat che chiede se abbiamo mai letto Spray Leeds di Enoch di Luca Enoch io sì l'ho letto tu l'hai letto tu l'hai letto no oddio forse è uscito quando eri molto molto piccola credo e di che anno è eh credo che sia degli anni forse dei primi anni novanta non vorrei sbagliare ma io sono nel novantasei quindi vabbè vabbè quindi invece Riro chiedeva qualche collega italiana che stimi o che ti piace particolarmente ok collega quindi io presuppongo donna però se volete parlare anche dei miei colleghi uomini allora da parte al di là dei miei colleghi poi in realtà sono anche amici quindi lo dico da un punto di vista obiettivo al di là dell'amicizia mi piacciono moltissimo due autrici di Bao a cui sono molto legata sia in amicizia che poi le stimo moltissimo per il lavoro che fanno sono Rita Petruccioli e Rachede Aragno che secondo me sono veramente bravissime hanno uno stile veramente unico poi sono delle persone veramente che io adoro due donne intelligentissime con cui è super piacevole parlare e poi una mia amica che si chiama Poci Pocetta lei ha pubblicato per Shockdom e lavora anche in Francia ed è autrice di tre volumi appunto editi da Shockdom che si chiamano Hilo che io vi consiglio stra tanto se vi piacciono poi soprattutto lei ha uno stile un sacco mix un po' tra francese e un po' manga con queste storie di sojo gli occhioni però questi colori mi fa impazzire mi fa giusto tantissimo e lei la stra consiglio e vabbè a questo punto si dice anche qualche collega uomo facciamo par condizioni ok beh io sono mega fan di Daniel Quegio che mi piace moltissimo come racconta vabbè poi Zero Calcare che è bravissimo poi sono super fan di Alessandro Baronciani perché mi piace moltissimo il tratto che ha ha un stile super figo Matteo De Longis mi piace da morire come colora come disegna e boh cioè in senso è pieno di gente che potrei dire certo certo però insomma qualche nome insomma ecco il libro di Matteo lo stiamo attendendo ormai credo da tre anni tipo si lo stiamo attendendo tutti speriamo che esca presto posso dire che è quasi finito però dai non manca tanto perché ogni tanto sai noi di Bauci ci scambiamo cose quindi sappiamo un po' anche degli altri autori ecco c'è un feedback quindi fra di voi anche fra voi autori della stessa scuderia diciamo e secondo me è molto importante molto molto utile per migliorarsi Gustav ci chiedeva signorina Berti cosa ne pensa delle opere di Osamu Tezuka vediamo se la cogliamo in fondo allora aspetta Osamu Tezuka dimmi le opere e beh ti dico quelle più famose Astro Boy Kimba la principessa Zaffiro ok allora cioè in realtà non so quasi niente nel senso ho presente quali sono credo di aver visto qualcosina l'hai giocchiato qua e là però non non ho una vera e propria opinione a riguardo però vabbè nel senso mi stai chiedendo comunque tipo di un maestro beh sì sì e il mio pubblico fa queste domande ovviamente perché io sono che opinioni si possono avere Michele chiedeva se leggi qualche manga però sì l'abbiamo già detto questo quindi sì stavo pensando di recente cosa ho letto ma è così qualcosa di attuale che ti ha colpito c'è no perché in realtà rileggo vado sempre a rileggermi i cortili del cuore paradise perché sono quelli che ho a casa poi non compro tantissimi fumetti nemmeno tanti libri cioè quando posso perché postano un sacco quindi poi vabbè magari in realtà la biblioteca di Bassano che è Bassano del Grappa dove abito è super fornita c'è una sezione di graphic novel pazzesca e io la ne ho lette tantissime e questo è super bello io vorrei tantissimo perché poi io l'hanno scorso abitato per un periodo a Torino e lì per esempio non lo so perché ma mi sono trovata molto in difficoltà sia il sistema della libreria cioè della biblioteca perché qui se non c'è un libro nella tua biblioteca da tutto il circondario della provincia puoi ordinarli quindi bene o male i titoli ci sono tutti e hanno un catalogo ampissimo lì invece hanno questa biblioteca enorme per esempio in centro a Torino va che ce ne sono tipo cinque però con tipo cinque piani però graphic novel ne avevano poche e quindi mi piacerebbe tantissimo che si potesse ampliare sezioni manga fumetti nelle biblioteche questo sì sì decisamente perché varia molto effettivamente anche anche quella dove abito io non qualche classico non so tipo Maus di Art Spiegelman magari un volume di zero calcare o cose del genere però ci si ferma quella decina di titoli effettivamente come se ancora fossero visti se posso dire un po' il problema in realtà del fumetto italiano in generale perché qua è ancora considerato molto non dico di nicchia però c'è ancora un po' qualche remora secondo me da parte dei lettori che quindi magari reggono soltanto le cose che vengono più conosciute però c'è un mondo di autori anche appunto nell'autoproduzione penso piuttosto che giovanissimi che c'è sono delle bombe proprio delle cose pazzesche e secondo me cioè non è neanche tipo magari l'editore però proprio il pubblico che deve secondo me essere educato di più al fumetto e quindi in realtà secondo me è una cosa che sta crescendo un po' la volta e sono molto felice di questo perché già qualche solo qualche anno fa era tipo fai i fumetti che cosa cioè qual è il vero il tuo vero lavoro così così invece adesso vedo già un po' più di interesse anche le persone appunto fai la fumettista che figo quindi non ti chiedono più cosa fai come lavoro vero esatto sì sicuramente perché poi si sono spostati anche un pochino nelle librerie di varia quindi c'è più una diffusione anche per quello probabilmente viene più che diffusione viene proprio visto anche come una cosa che ha una dignità cosa che un'opera letteraria che un fumetto che compri in edicola che poi cioè in ogni caso anche tipo Topolino Tex quei fumetti di Landog cioè con le storie miseria poi quei disegni cioè io io faccio graphic novel perché non so disegnare questo dico sempre quindi ma non è assolutamente vero per me quelli sono sono veramente cose pazzesche sotto ogni punto di vista senti parliamo proprio del tuo disegno come preferisci lavorare in digitale o in analogico e quali sono quali sono i pro e i contro di ognuno dei due metodi beh io disegno in digitale lavoro tutto sull'iPad l'ho comprato tipo tre anni fa e ho disegnato tutto ne un brothers lì e se no appunto photoshop e tavoletta perché semplicemente ci sono costi minori cioè nel momento in cui hai la tavoletta ti eviti ricomprare i materiali eviti la scansione di rovinare le tavole puoi rifare tutto in fretta quindi a livello pratico è molto più semplice cioè non è più non è più facile perché poi un programma lo devi conoscere devi imparare a conoscerlo mentre se hai gli strumenti a mano più o meno tipo prendi in mano il pennino e lo provi però appunto ci sono dei costi diversi a me piace tantissimo comunque anche lavorare a mano e sono un po' una pippa in realtà con quasi tutti gli strumenti tolti gli uniposca non so per quale motivo mi trovo bene con gli uniposca e quelli ci ho fatto un fumetto autoprodotto tutto uniposca che appunto come dicevo prima c'è robe che faccio io così proprio per divertimento che metto sul mio shop online e poi stanno là però si chiama Curiose Coincidenze Cosmiche mi piacerebbe tantissimo farci un libro intero proprio fatto tutto a uniposca quando avrò materiali e tempo magari potrei pensarci potresti pensare anche di farlo magari non so tramite un Patreon o qualcosa del genere volendo cioè hai mai pensato a qualcosa del genere allora in realtà è una storia che devo ancora sviluppare bene quindi non so non so ancora se la proporrò a un editore o se la farò per cavoli miei perché comunque è una cosa abbastanza sperimentale come uniposca cioè almeno per quanto mi riguarda ovviamente perciò è ancora è troppo distante come cosa anche perché parlerebbe di Andy Warhol che è un'altra mia grandissima influenza e quindi sto cercando di ricercare e di capire il più possibile su che tipo di persona era al di là della figura pubblica sua quindi lo sto facendo un po' nel tempo libero diciamo ricercare leggere cose sul suo conto eccetera certo comunque sembra interessante sicuramente sempre parlando di digitale invece per quanto riguarda però proprio più il mercato dell'editoria pensi che si vada molto velocemente verso la digitalizzazione del fumetto o credi che il cartaceo resisterà ancora per un bel po' e personalmente quale delle due cose speri allora è una bella domanda perché secondo me qui in Italia siamo molto legati alle tradizioni e le cose siamo un po' lenti a macinare adesso con la quarantena si è scoperto moltissimo il digitale secondo me ho fatto anche un fumettino mini per Bao su questa cosa proprio una guida alla lettura digitale e secondo me è un mondo fighissimo perché in realtà i fumetti in ebook sono pazzeschi cioè i colori sono vivissimi è super figo però chiaro che certi libri li puoi leggere solo in tradizionale anche perché proprio sono oggetti ma mi viene in mente paradossalmente anche solo le ragazze nello studio di Munari di Baronciani che ha tutti gli inserti in cartotecnica così come tutti i libri di Baronciani in realtà che in digitale magari puoi comunque leggerli però perdono un po' quindi c'è comunque tutta la dimensione del libro fisico che ancora rimane e rimarrà mi auguro anche anche da un punto di vista di sequenzialità comunque molte cose spesso tendono a perdersi nel digitale sì esatto dipende se sono magari nate per per il digitale oppure no certo tipo le foto che adesso le fai tutte al telefono poi rimangono nell'hard disk esatto e effettivamente infatti una cosa che ho notato guardando un documentario su youtube che si chiama se non sbaglio verticalismi era proprio qualcuno che o fumetti verticali anzi scusami qualcuno faceva notare che ci sarà il problema diciamo in futuro che non un fumettista non avrà più le proprie tavole fondamentalmente le avrà su un hard disk meno io ce le ho quindi boh sì poi in realtà in realtà io tipo per tutte le superiori ho fatto fumetti a mano cioè io praticamente non ho mai usato il computer per fare fumetti se non quando ho fatto la prima opera lunga che era appunto Arabella e Pica e poi ho continuato su questa strada perché sostanzialmente quando vai a fare un volume di 200 pagine farle tutte a mano ho una pazienza infinita tipo Lorenzo Ceccotti che si mette su Twitch ogni giorno lo so che qualcuno ha seguito ultimamente vabbè lui è anche un mostro di bravura quindi però ci vuole pazienza sì ho le tavole originali delle superiori che sono brutte però quelle ce le ho vabbè per te sono brutte anche le ultime quindi non conta eh però le superiori c'era del trash potente anche nelle storie molto trame effettivamente Lorenzo è pazzesco perché si mette a perde ore e ore anche su una singola vignetta poi si mette a chiacchierare quindi va piano piano tratteggia per io poi ho questa cosa infatti anche tipo mi chiedono il tuo stile si è ispirato a Brian Leomalle è ispirato in realtà io dentro di me penso in realtà è solo perché perché sono pigra il mio stile è semplice perché sono pigra sostanzialmente voglio finire le cose subito infatti una cosa che sto cercando di fare è che come dicevo prima ho imparato molto da colleghi appunto osservando gli altri che ci mettono 15 anni a fare i loro libri ad avere più pazienza quindi penso che mi impegnerò molto di più col prossimo libro perché anche con Neon Brothers in realtà poi sarà anche il fatto che non avevo bene inchiare le tempistiche di un progetto editoriale di questa portata e quindi ho cercato di fare tutto per stare dentro le scadenze e con questo non sto dicendo prima che i miei editori vengano mi scrivano i messaggi minatori non sto dicendo che consegnerò il libro in ritardo però che cioè effettivamente se mi fossi concentrata di più ci avessi messo magari anche solo un paio d'ore di più certe tavole certe cose sarebbero venute sicuramente meglio quindi però ci può stare la pressione della prima opera dai sì esatto quindi adesso che ho anche più chiari appunto i tempi editoriali perché poi una volta che tu hai finito il libro non è finito nel senso devi passarlo alla redazione c'è tutto un periodo di impaginazione lettering grafica che è complesso è lungo infatti una cosa che io cerco sempre di fare è di andare il più incontro possibile ai grafici di Bao e a tutta la redazione perché cioè devono lavorare tantissimi libri ogni giorno tutto l'anno quindi se da parte di noi autori c'è anche un aiuto cioè gli veniamo incontro che poi appunto il fumettista in realtà è anche lavoro di squadra perché quando sei sotto un editore devi collaborare non puoi pretendere di fare come ti pare infatti è per questo che c'è il mondo dell'autoproduzione e come dicevo non si escludono le due cose e quando i progetti no certo 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 ovvio ma poi si pensa anche magari a ai mangaka di cui parlavamo prima che hanno 6 7 8 assistenti poi dipende chiaramente dall'importanza del mangaka stesso però si parte da 2-3 assistenti minimo fino a interistanze piene di gente che disegna e quanto hai impiegato per realizzare diciamo tutta l'opera da da quando hai messo la penna per la prima volta sulla prima tavola fino a quando l'hai consegnata allora in realtà è stato un processo abbastanza lungo ma perché come ti dicevo il primo progetto che avevo proposto a Bao era una storia che non andava bene e quindi i miei editori Michele e Kate mi hanno aiutata un po' a tirare fuori le cose che volevo raccontare veramente e e quindi poi è nato Neon Brothers però appunto c'è stato un processo lunghissimo che è durato da Lucca del 2017 quindi novembre fino a più o meno gennaio febbraio anche marzo del 2018 quindi dell'anno dopo in cui ho effettivamente messo insieme la vera storia di Neon Brothers e il contratto poi da marzo l'ho firmato a giugno perciò la storia di Neon Brothers comincia con tutta questa cosa e da quando ho firmato il contratto io ho praticamente sempre disegnato il libro quindi da giugno del 2018 fino a gennaio del 2020 praticamente poi ovviamente non facevo solo quello perché in qualche modo dovevo pagare l'affitto le bollette a Torino quindi chiaro si poteva senti Yassir Hammu ci chiede anzi ti chiede io vorrei diventare fumettista come ci si propone alla BAO bisogna avere un curriculum di fumettista oppure valutano direttamente l'opera quindi quello che vuole sapere immagino se possano valutare anche qualcuno senza un'esperienza pregressa ma beh sì io sono alla mia prima opera e l'ho pubblicata con loro praticamente quindi per quanto possa far curriculum avere esperienza nell'autoproduzione in realtà credo che loro valutino molto più la storia e il tuo stile che non cosa hai già fatto è chiaro che nel momento in cui magari hai già pubblicato con altri editori o hai pubblicato non indipendentemente però in maniera indipendente sicuramente arrivi più preparato perché sai già cosa vuol dire mettersi su una tavola e fare delle tavole per magari appunto due anni quindi cioè è più una cosa personale in realtà secondo me se hai già fatto qualcosa che aiuta più più te che non l'editore sì sì anche perché fondamentalmente loro vedono l'opera che gli proponi se è nelle loro corde esatto sì anche se è la primissima cosa che hai fatto immagino che l'accetti no sì e senti il tuo metodo di lavoro qual è nel senso solitamente hai tutto in mente dall'inizio o comunque ti lasci guidare un po' dall'istinto anche allora io al contrario di moltissimi colleghi che vanno anche a braccio io ce la faccio io sono un'ansiosa cronica e soprattutto quando scrivo devo avere tutto scritto perfettamente perché poi oddio ansia se non ci sto nelle pagine e se non consegno in tempo quindi praticamente io mi faccio beh dopo che mi è stato approvato il progetto dall'editore solitamente comincio a lavorare cioè dopo aver fatto il soggetto comincio a lavorare alla sceneggiatura sceneggiatura che è semplicemente io che mi scrivo tutte le battute tutti i dialoghi che verranno detti all'interno della storia perché ho bisogno di capire come inserirli e in quante tavole farlo perché cioè quando lavori con un editore hai anche un tot di pagine in cui mantenerti poi ovviamente cioè è tutta una questione di costi poi anche di stampa eccetera e quando ho tutta la sceneggiatura scritta comincio con gli storyboard per vedere storyboard che in realtà sono bozzetti fatti su un foglio di carta che poi butto via per vedere la divisione delle tavole quindi tipo qui ci saranno non so 15 battute divise in 7 vignette dico il caso e poi comincio a fare gli storyboard veri e propri che in realtà sono quasi dei definitivi cioè sono un mix tra storyboard e matite perché che poi sono quelli che mando effettivamente al mio editore per farmi ricorreggere e quindi devono essere comprensibili non posso mandargli i bozzetti fatti sui foglietti volanti vabbè c'è Andrea Pazienza ci faceva direttamente i fumetti in quel modo quindi non potresti comunque farlo dai però non sono Andrea Pazienza nel senso che io appunto anche questo metodo anche quando disegno è estremamente quadrato dico io sempre cioè devo mettermi lì e fare tutte le cose in ordine ma anche quando faccio sketch così sul quaderno ci perdo le ore perché il braccio non viene come voglio e quindi il classico il classico metodo dettato dall'ansia possiamo dire poi in realtà anche il fatto che a me piacciono comunque le forme molto geometriche molto rigide statiche infatti ho questa grande passione per la moda perché in realtà non è che mi piace seguire la moda o vestirmi seguire cose ma mi piacciono molto le sfilate i servizi fotografici gli editoriali di moda delle riviste da un punto di vista visivo grafico artistico quindi in realtà ho questa passione per la moda che in realtà non è passione per la moda ma passione per l'arte della sì sì beh se hai questa passione ti potrei consigliare il manga alle bizzarre avventure di Giojo di Roiko Haraki ma sai che tutti quanti mi dicono cioè me ne parlano continuamente perché tipo l'altro giorno qualcuno mi ha detto tipo oddio mi sembri uscita per come sei vestita da Giojo e io ero tipo perché tutti continuano a dirmelo devo recuperare sì sì perché lui usa molto le lui si ispira molto per le pose alle riviste appunto di moda addirittura ha fatto una mostra in collaborazione con Gucci quindi questo non lo sapevo io sono mega fan di Gucci quindi sì sì lui ha fatto una mostra proprio qui vicino da me a Firenze all'atelier di Gucci esatto bellissimo no io poi io impazzisco per lo stile di Gucci perché è proprio pazzo e quindi mi piace da morire mi piace da morire poi il mio sogno sarebbe fare qualcosa in collaborazione con qualche casa di moda anche io in realtà supporto tantissimo i brand indipendenti mi piacciono tantissimo quindi spero che qualcuno un giorno mi chiederà di disegnare qualcosa per loro chissà chissà io dico che ci riuscirai c'è stato anche un numero di Vogue tempo fa mi sembra in dicembre sì perché l'ho preso durante la festa di Bao che era tutto illustrato sì c'è anche l'illustratore di Manara è super bello super super bello sì sì se non sbaglio c'era in copertina c'era un artista giapponese credo sì erano cinque copertine diverse in cui appunto io avevo preso quella di Manara sì 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 e anche questo comunque è un pochino un sintomo del fatto che il fumetto poi si sta un pochino espandendo diciamo si sta allargando rispetto alla solita nicchia che è stata per anni e anni esatto sì ora viene visto anzi forse da qualcuno viene visto anche in maniera cool quasi un po' di moda da qualcuno siamo le nuove rock store noi fumettisti sì e senti io volevo chiederti se avevi qualche aneddoto curioso che ti era capitato magari in fiera o così però ovviamente non avendone fatte no però no che sto pensando perché in realtà appunto come ti dicevo prima sono stata un sacco di fiere in realtà chiacchierare con Bao ma è stato super bello l'anno scorso che Bao aveva lo stand per festeggiare i dieci anni della casa editrice che era tutto bianco e faceva disegnare gli autori io sono andata in realtà perché ero ero andata a presentare un disco a cui avevo partecipato che era quello di Fabrizio Nicchi di Radio DJ aveva fatto questo disco che si era autoprodotto con illustrazioni di ragazzi dentro tra cui c'ero anch'io quindi ero stata per fare questa conferenza e poi ho detto vabbè vado a salutare Bao e mi hanno detto dai disegna anche te sul muro e io ero tipo non c'entro niente devo ancora uscire quindi quello è stato molto carino e poi non lo so non ho tantissimi aneddoti proprio perché non non vado spesso in fiera qualche aneddoto magari anche con qualche fan con qualche richiesta strana non so anche online ho fatto le dediche durante la quarantena perché Bao ha fatto questo evento per diciamo compensare la mancanza di Cartoon Mix a cui sarebbe dovuto debuttare Neon Brothers oltretutto e quindi ci aveva mandato un pacco di 100 libri a testa ad ogni autore per fare un tot di dediche in base a quelli che arrivavano e un ragazzo un ragazzo credo non mi ricordo però mi aveva chiesto uno dei personaggi che si annoiava in quarantena per ricordarsi di questo periodo è stato simpatico devo dire sì 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 sicuramente originale bravo ma devo dire originale apprezzo apprezzo queste cose moltissimo Riro ci chiede l'anno scorso a Luca c'era Iudori che tra l'altro io ho anche intervistato molto simpatica e molto brava anche lei cosa ne pensi di Iudori sfondi una porta aperta perché io la adoro cioè mi sono comprata giusto l'altro ieri la scelta di Pandora perché a Luca non sapevo che ci fosse e l'ho vista andandomene uscendome dal padiglione editori l'ho vista allo stand della J-pop ho detto cavolo adesso faccio la fila per per farmi farla dedica però era lunga e in realtà dovevo andare a salutare Baronciani perché mi aveva detto dai vieni a questa presentazione che facciamo con gli altri autori di Bao che è dall'altra parte della città ma poi perché volevo in realtà farmi autografare la cassetta che aveva fatto di Dirty Dancing con i This is not a love song e quindi in realtà ho detto vabbè dai sarà per un'altra volta e in realtà un po' me ne pento perché mi sarebbe molto moltissimo piaciuto cioè mi sarebbe piaciuto moltissimo conoscerla però comunque in fiera non è che ci puoi parlare in ogni caso chissà quanto eh sì 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 poi chiaramente con la gente soprattutto in una fiera come Luca è molto difficile effettivamente però a lei mi piace tantissimo perché ha uno stile super bello di illustrazione la scelta di Pandora l'ho letto ieri me l'ho letta tutto e all'inizio ho fatto un po' fatica devo dire perché si vede che è un po' un'impostazione da webtoon perché appunto viene da era un webcomic sì però dopo che entri un po' nel nel diciamo nel ritmo della narrazione è molto molto carino e poi mi piace moltissimo i temi che tratta ovviamente cioè il femminismo il razzismo che lo fa comunque anche con le illustrazioni che posta sui social e mi piace mi piace moltissimo poi lei è bella da morire io sono innamoratissima di lei quindi sì confermo confermo e senti un'altra cosa che mi è sembrata anche da leggendo il tuo il tuo fumetto è che la storia volesse lanciare un pochino questo messaggio che ognuno di noi può realizzarsi attraverso il proprio sogno e che anche ognuno ha un ruolo negli ingranaggi della vita diciamo è così è un po' questo che volevi anche dire diciamo tra le altre cose sì credo sia uno dei temi comunque che di cui parlo più spesso non so sarà che sono cresciuta un po' a pane film della Disney che credi nei tuoi sogni ce la puoi fare così come tipo Naruto o tutte quelle cose lì molto motivazionali però a mia volta vorrei essere motivazionale verso chi mi legge cioè io comunque ho una visione abbastanza positiva della vita e vorrei trasmettere ai lettori che leggono che non sono soli cioè che in qualche modo ce la puoi fare cioè anch'io dicevo quando ero piccola dicevo voglio fare la fumettista però con i fumetti non si guadagna cosa faccio nella vita e in realtà però poi ce l'ho fatta nel senso quindi secondo me ce la si può sempre fare l'importante è crederci abbastanza e avere voglia di farlo in quel modo ci si arriva un po' alla volta senti un lato positivo e uno negativo di essere un fumettista in Italia oggi oddio allora positivo per me è poter avere l'opportunità di poter raccontare le storie che ho in testa che è una cosa che mi preme veramente tantissimo io quando ero più piccola addirittura pensavo di voler scrivere romanzi neanche fumetti perché ho proprio questa urgenza di raccontare storie e il fatto di poterlo fare ed essere pagata per farlo e poi soprattutto la cosa che mi piace di più è proprio sapere che c'è gente che lo legge e che lo apprezza e a cui magari sono anche l'ispirazione perché poi magari mi arrivano le fan art e quindi significa che tu hai letto questo libro e ti hai ispirato talmente tanto da metterti a disegnare tu stesso e a me questa cosa fa veramente impazzire uno negativo per me sono tutti gli incontri pubblici perché sono ansiosissima soffro di un'ansia sociale immensa però spero di abituarmi a questo lato ma non sono la prima a dirlo perché mi è capitato altre conferenze di altri autori di sentire la stessa cosa quindi credo sia una cosa di noi narratori che siamo un po' delle anime introverse e quindi si è abbastanza diffusa anche perché poi credo che sia un po' tra virgolette difficile perché quando tu scrivi un libro metti tutto te stesso ed è come metterti a nudo cioè di fronte a un sacco di persone e quindi stai raccontando te stesso al mondo perciò in un certo senso non è mai semplice sì 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 assolutamente e niente se ti avrei l'ultima domanda poi nel frattempo se ci sono altre domande dalla chat poi le leggiamo prima di chiudere ti volevo chiedere quanto pensi che sia importante l'utilizzo dei social oggi per un artista e qual è magari anche il tuo rapporto con esse allora a parte che io i social li uso solo per lavorare praticamente non pubblico quasi mai niente di privato ma perché sono io una persona fondamentalmente introversa molto molto riservata però lo reputo importante proprio perché è un contatto con il pubblico e l'abbiamo visto benissimo in questi mesi perché per me è stato l'unico modo di avere dei feedback da effettivamente i lettori e non dico che ho chissà quale seguito però ho un certo numero di lettori quindi sento anche una certa responsabilità anche a postare dei contenuti che siano in linea con anche ciò che penso di portare dei messaggi che siano giusti insomma quindi è importante soprattutto anche per il fatto che poi hai una certa responsabilità se arrivi ad avere un certo numero di followers insomma però la cosa che mi piace di più è poter essere in contatto appunto con chi legge il libro cioè a me riempie veramente di gioia sta cosa è pazzesco qualche messaggio d'apprezzamento che ti ha fatto particolarmente piacere c'è stato in questo periodo che vuoi magari ricordare ma guarda in realtà è difficile perché ce ne sono stati tantissimi e ricordarmeli tutti è impossibile infatti li raccolgo tutti nei tipo negli highlight di instagram perché ogni tanto mi piace rileggerli e mi fanno veramente troppo piacere quindi cioè sono talmente tanti da talmente tante persone che ovviamente purtroppo non riesco a ricordarmi tutti i nomi e poi sicuramente apprezzamenti da autori che stimo quello è stato forse il traguardo più uno dei traguardi più belli cioè a vedere avere persone che ho sempre letto che ammiro moltissimo che hanno apprezzato il mio libro è stato bello molto bello io chiuderei con questo messaggio che ci lascia Paola che dice per fortuna anche le anime introverse trovano un modo per esprimersi complimenti Alice grazie credo che sia importante anche esprimersi sennò poi scoppi tipo quindi sì sì assolutamente in qualche modo bisogna esprimersi se si fa artisticamente sicuramente è un modo positivo quindi ben venga assolutamente Alice ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi stasera grazie a te non vediamo l'ora di leggere qualcos'altro anche quello scritto anche quello disegnato e colorato con gli uniposca spero di di farcela intanto c'è Calypso che aspetta di essere disegnato bene bene poi in realtà sì sui social io posto sempre un po' di dietro le quinte cose perciò se la gente tipo che mi segue già lo sa già che insomma è chi non ti segue chi non ti segue ti seguirà stasera può vedere tutti dietro le quinte prima dell'uscita del libro e per chi non l'avesse fatto invito anche a leggere ovviamente la sua opera Neon Brothers che è molto 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 bella grazie quindi grazie ancora noi con tutti ci vediamo alla prossima live e ai prossimi video grazie per essere stati qui e alla prossima ciao a tutti